Tra i partecipanti all'ottava edizione del concorso internazionale di poesia Città di Cefalù organizzato da Antonio Barracato ho il piacere di incontrare il poeta Giovanni Venafro. Giovanni Venafro è stato premiato, mi sembra, con un plauso letterario, assegnato alla sua lirica che porta come titolo Allora, intanto da Napoli a Cefalù nella consapevolezza che la poesia non ha confini E quindi le tue emozioni di stasera? No, le emozioni sono state tante, più che altro anche per il luogo, per la location che è bellissima e si addice proprio tutta alla premiazione delle poesie, delle litiche e poi c'è una partecipazione di tutto rispetto di grandi poeti, autori, scrittori in questo concorso. Perché scrive Giovanni Venafro? Ma Giovanni Venafro, sono 3-4 anni che ha iniziato a scrivere, praticamente per esternare la vita, i propri pensieri In verità io sono di Scampia, un luogo che dice tutto però ho cominciato a scrivere con una piccola biografia che ho inserito in una silloce che io ho vissuto la mia adolescenza a Scampia dove ho appreso tutte le cose positive del quartiere Ghetto e le ho divulgate perché a Scampia per sfatare questi stereotipi, luoghi comuni, frasi fatte che Scampia non è solo camorra, delinquenza e troca ci sono tante persone per bene come d'altronde anche in Sicilia, in tutta la Sicilia, in tutta la Campania quindi io per questo mi sono venuto, infatti tutte le mie poesie parlano di non di criminalità, di legalità, a me parlano proprio di emozioni, quelle che ho vissuto che sento ancora tuttora e allora ascoltiamo la poesia la poesia questa qua è uno spaccato praticamente di un vicolo di Napoli dei tempi passati penso che anche qua in Sicilia ci dovrebbe essere un vicolo così fra l'altro mi viene in mente leggendo a nonna Lucella io tempo fa ho scritto una poesia sai a chi dedicata? Ciciniello ho dedicato, sì perché questo personaggio mi ha incuriosito l'ho scritta in Sicilia dedicata a questo napoletano che era molto devoto alla Madonna allora ascoltiamo la poesia devo mettere un attimo i giocciali ecco qua allora la nonna Lucella la nonna Lucella è che la vicciatella ha sentato fuori vascia in coppa a una singolella con una lipaglia che i capelli fatti a trezza tutta accrociata da capo mantenuta una forcina di tartarucca o tupo con una cammosella fiorata d'estate e con i scialli l'hanno fatta di un che bene so con l'uncinetto avviene ognuno che passa la saluta con un sorriso e a nonni tutti vanno in questa vita si dispera quando i pazienti si fanno male oppure quando si appiccino per qualsiasi sciocchezza vedo che all'occhio la nonna si regna le tristezze vanno, non correre, non fai male c'è una ria asciutta, non stai sruata, bocca rimalata si guarda tutto quanto si vanno come se avessero fosse una niputa sua dannoci sempre consigli a voi ma siamo lì, ho accattato una coppia di caffè di una mazzatella la nonna dice, c'è vaga ma non vogliono niente, si ha dietro una caramella passano i giorni, i mesi e l'anni, a poco a poco i vaglioni se ne vanno la nonna non resta solo, c'è questa nuova generazione ma un tempo passa e fuori faccia rimasta sulla sinculella con il funnale di pagliarello la nonna c'è la strada insieme a un tempo bello, povera vicciarello bellissima poesia e da siciliano ti dico una cosa, io l'ho capita questa poesia ormai forse perché io considero molto fruibile si si, molto fruibile tra l'altro io considero non ci sono vocaboli praticamente per effetto di effetto io considero ormai il dialetto napoletano una lingua nazionale perché la capiamo forse anche grazie a tutti questi film divulgati per esempio da Totò Massimo Troisi, le canzoni di Pino Daniele il mio principio è questo qua, la poesia deve essere per tutti e di tutti quindi ognuno la deve leggere, comprenderla, diciamo assuefarla perché praticamente non è che ci vuole la laurea, il diploma oppure deve essere anche una persona, della gente, del popolo deve capirla e la deve assimilare chiudiamo con una seconda poesia recitata da Giovanni Venafro questa poesia parla praticamente delle morti bianche, degli incidenti sul lavoro della violenza che subiscono le donne in quanto mamme per questo e dell'amore viscerale di un figlio ascoltiamo la poesia e mamma guaglione, 16 anni, ci facevo un proficatore ogni giorno, poi conciano con i giorni soccaro da coppa all'anno, due secondi piani, rindano il barco poi guadagnare un anno, faticavano senza protezione non si pensavano a tutta questa attenzione l'indospedale sentivano un mire che diceva forse è stato in Roma loro, povero guaglione si ce la fanno un po' più camminare sentendo queste cose pensavano, e ci ci dice mamma so' poco anno che ha perduto il papà e è rimasto solo con tre figli a rammaciare e così si affaticano con il Signore facendo i servizi spero che la supera è stato l'olore e non si fa pigliare la disperazione ci sono tante mamme che supportano questa croce e tante mamme che volessero portare ma non ci sta il figlio loro se ne è volato già bellissima poesia caro Giovanni ti chiedo di continuare a regalarci emozioni a divulgare la poesia per come stai facendo adesso grazie grazie a tutti voi grazie a te anche in primis grazie a tutti grazie a tutti